Ciao a tutti, oggi prepareremo il semifreddo alle fragole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti più 3 ore per il raffreddamento in freezer. Gli ingredienti sono panna fresca messa 45 minuti in freezer, fragole, succo di limone, zucchero e uova. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farfalla, versiamo la panna e la facciamo montare senza misurino e senza tempo a velocità 3,5. La panna è ben montata, trasferiamola in una ciotola. Senza lavare il boccale mettiamo le fragole, il succo di limone e ne facciamo tritare per 20 secondi a velocità 10. trasferiamola in una ciotola, laviamo e asciughiamo bene il boccale. Abbiamo lavato e asciugato bene il boccale, adesso posizioniamo nuovamente la farfalla sulle lame, mettiamo le uova, lo zucchero e le facciamo montare per 5 minuti a velocità 3,5. trasferiamo in una ciotola capiente. Aggiungiamo la pure di fragole al composto di uova. Amalgamiamo delicatamente. Aggiungiamo la panna montata ed amalgamiamo delicatamente. Trasferiamo nei stampini monoporzione. Trasferiamo il composto in congelatore per almeno 3 ore. Trascorso il tempo i semi freddi sono pronti, andiamo a impiattare. Semi freddo alle fragole. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!